benvenuti a tutti in un nuovo video oggi inizierò una serie parlando delle varie applicazioni che possiamo installare sulla nostra auto radio android nel video di oggi vi parlerò dell'interfaccia home questa è quella stock come vedete abbastanza comoda comunque carina noi andiamo a installarne una che può essere più utile quando siamo in macchina stiamo andando allora in descrizione trovate il link del file apk ma è disponibile anche sul play store per l'autoradio che nel play store si chiama car launcher ag adesso lo andiamo a installare ecco fatto ed andiamo ad aprirla eccola qua adesso si sta caricando vedete molto intuitiva molto comoda qui abbiamo la radio dobbiamo configurare ovviamente i tasti il navigatore la musica il tempo di sosta il tempo fuori la temperatura se siamo collegati al wifi al bluetooth le applicazioni internet e il telefono qui possiamo scegliere lo stemma della nostra vettura qui possiamo mettere il contachilometri sia in digitale che in analogico e l'orellogio classico andiamo a personalizzarcela allora iniziamo dalla marca io ho una fiat quindi da mettere lo stemma fiat però vedete ci sono vari marchi per chiunque abbia altri modelli qui possiamo scegliere se l'orellogio analogico lo vogliamo no il lettore di musica quello che vogliamo se incorporato no il colore dei tasti e lo metterò più simile a quelle originali della fiat quindi siamo su questo tipo d'alancione più o meno ok più o meno ci siamo ok poi possiamo scegliere i vari sfondi io lo tengo così che mi piace qua configuriamo le applicazioni ad esempio per la radio noi usiamo quella della radio che qua per il navigatore io uso si gic per la musica e via dicendo se la trovo qua musica e per il telefono qua noi usiamo bluetooth e internet non è che lo usiamo guidando però mettiamo chrome poi qui possiamo mettere se vogliamo le icone del bluetooth del wifi il metro nella zona la velocità rilevata possiamo mettere che ci avvisa a 50 chilometri per dire che il limite in città la luminosità di giorno e quella di notte quella automatica se è attivato o no automatica mettiamo ok e qui poi possiamo mettere i controlli visibili la dimensione della griglia delle applicazioni la temperatura in gradi nel distanza in chilometro il tempo in 24 ore la lingua l'animazione se vogliamo la modalità slip lo schermo pieno se nasconde la barra delle funzioni e qua possiamo impostare come schermata principale ag ed andiamo a selezionarla da adesso quando accenderemo la radio ci partirà questa schermata qui infatti vedete adesso ad esempio vogliamo sentire la musica ci aprirà il lettore noi possiamo scegliere anche possiamo scegliere anche il lettore interno e questo è tutto se vi piace questa applicazione lasciate un like e scrivete nei commenti come vi trovate un saluto a tutti grazie a tutti